Open Meter, una tecnologia sostenibile, 100% italiana, all'avanguardia a partire proprio dal suo processo di produzione. Ecco il viaggio circolare del nuovo contatore e distribuzione. Siamo in Bitron, dove sotto il controllo di distribuzione vengono costruiti i nuovi Open Meter, un'eccellenza italiana progettata da distribuzione che verrà installata nelle case e nelle aziende di più di 32 milioni di italiani. Open Meter contribuisce all'efficienza del sistema elettrico del nostro paese, mettendo al centro il cliente e anche l'ambiente attraverso una serie di scelte green. Ogni 100 contatori trifase prodotti viene piantato un albero. Oltre il 99,5% dell'imballo del Meter è in cartone e la plastica non supera il peso di 3,6 grammi. Per garantire la conformità ai requisiti nazionali ed internazionali, tutte le fasi di test e produzione sono presidiate da e-distribuzione. Il network logistico è costituito da due piattaforme continentali, una piattaforma in Sicilia e un transit point in Sardegna. Una complessa macchina logistica coordina produzione e distribuzione per riuscire in questa maxi-impresa in soli 8 anni. Tutto il viaggio di Open Meter, dagli impianti di produzione fino ai luoghi di utilizzo, è tracciato in ogni momento. Dal network logistico i contatori elettronici arrivano alle unità operative che li installano in milioni di case. Programmiamo una visita con i sindaci dei comuni che sono interessati al piano. È un impegno molto apprezzato soprattutto dalle amministrazioni più virtuose che si fanno carico di promuovere il progetto, rilanciando le informazioni sui propri siti o canali social. Open Meter entra nelle case dei nostri clienti con i quali vogliamo mantenere un rapporto di fiducia e trasparenza. Una vera e propria partnership con le nostre imprese che sono impegnate non solo a garantire la qualità tecnica dell'attività, ma anche in tema di responsabilità sociale con ricadute occupazionali sul territorio. Il nuovo contatore dà un contributo importante all'ambiente, sia attraverso un nuovo canale di comunicazione che rende possibile maggiore consapevolezza dei consumi e dell'autoproduzione, sia attraverso la telegestione che permette che quasi tutte le operazioni tecnico-commerciali siano eseguite da remoto, riducendo le movimentazioni delle squadre e di conseguenza anche le emissioni di CO2. E quando il contatore sostituito viene smaltito, la sua materia prende nuova forma e il ciclo di vita continua. I contatori, lavorati dall'impianto, producono materie prime secondarie. Anche i vecchi contatori ritirati infatti danno il proprio contributo a questo viaggio circolare. Recuperati e trasformati diventano la materia prima per nuovi prodotti e dare un nuovo inizio al viaggio di Open Meter verso le case degli italiani. Produzione, distribuzione, installazione, riciclo. Open Meter. Il viaggio migliore è quello che non si ferma mai.